Sembra essersi fermato il tempo per gli ACDC, alla RCF Arena nell'unica data italiana, un delirio per oltre 100.000 spettatori di ogni età e provenienza. Brian Johnson, classe 1947, dopo lo stop dell'ultimo tour, ha una voglia matta di riprendersi il palco e la sua voce torna a graffiare. Angussiang non è da meno, a 69 anni continua a correre e dimenarsi spremendo al massimo la sua chitarra. E il pubblico risponde, una distesa di corna lampeggianti incornicia una serata destinata a rimanere nella memoria. In scaletta spilano i grandi classici, da Back in Black a Highway to Hell, due ore abbondanti di concerto che sono valse la lunga attesa di una giornata graziata dal meteo. Anche i nuvoloni si sono inchinati agli dei dell'hard rock girando a largo. If you won't live, you die! If you won't live, you die! Come on! Grazie a tutti